Sempre qui dal Palabra e Banca siamo con Beretta, giocatore azzurro. Bene, allora, come hai visto la partita oggi? Peccato per il risultato, abbiamo giocato un po' altalenanti, però per noi era la prima. Loro avevano già fatto cinque amichevoli, quindi erano un po' più avvantaggiati. Quindi, diciamo, potevano giocarcela un po' meglio, perché è stato un peccato, però vabbè, per molti di noi era l'esordio, ci stanno divertiti, almeno io mi sono divertito. Poi è un pubblico fantastico qua, palazzetto pieno, è stato bellissimo, veramente un disperdito. Ecco, appunto, forse si è pagato un po' l'inesperienza di questa squadra che parteciperà alla World League. Come è arrivata la World League dopo questa partita? Ma guarda, domani abbiamo già il bovodei, quindi abbiamo già subito un'altra amichevole. Dovevamo un po' rompere il ghiaccio oggi, secondo me, domani saremo un po' più sciolti, possiamo sicuramente giocare meglio di così. Alla World League arriveremo bene, sicuramente meglio, con un gioco un po' più definito, comunque dai, speriamo bene. Dopo tanti anni, qui a Cune, tornata nazionale, direi un pubblico... Fantastico, fantastico. Guarda, io la prima volta giocavo in un palazzetto pieno, grosso così, è stato bellissimo tutti che facevano il tifo per noi. No, veramente, complimenti al pubblico, complimenti a Cuneo, perché in due settimane sono stati qua e ci hanno trovati benissimo, ci hanno trattati benissimo, quindi assolutamente contenti. Favorita per la World League, Russia o vedi qualcun altro? Beh, adesso pensiamo al Girone, noi abbiamo la Russia nel Girone, non sarà facile, però va bene, più difficile e meggi giochiamo, dai. Buongiorno, prego, prego.